San Josaphat. Josaphat è un santo ecumenico, il primo rappresentante delle chiese uniate ad essere elevato agli onori degli altari. Nacque a Volodymyr in Ucraina da una famiglia nobile decaduta di stretta tradizione ortodossa. Inviato a Vilna per diventare commerciante, si ritirò nel monastero brasiliano della Santissima Trinità. Per le doti di predicatore e per la fama di monaco santo, la chiesa uniate lo nominò prima archimandrita e quindi vescovo. Visse da povero, provocando l'odio dei nobili a cui tolse il privilegio di sfruttare i beni della chiesa. Il suo corpo riposa in un'urna in Vaticano sotto l'altare di San Basilio Magno e invocato per guarire dalle distorsioni.